Quando ci vuoi ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video Oggi il video haul Non ho fatto più il room turn Perché ho fatto alcuni cambiamenti E avendo fatto questo spostamento Le mie decorazioni meravigliose Sono scomparse E la mia collezione Dopo che mi sono trasferito Perché dovete sapere che io mi sono trasferito da poco Ancora non è arrivata la mia meravigliosa collezione Per questo non ho potuto fare il video E questo spostamento ho comportato appunto Il spostamento della mia casa Era così bello Perché appunto io già mi ero sistemato Da quelle cose che avevo In quel lato là Ma è arrivata mia sorella, è sconvolto tutto Io dico ok, ma io volevo un lato più piccolo E più raccolto, più carino E invece no, se l'è presa lei Ma non fa niente Tranquillizziamoci Perché oggi il video haul Perché ho comprato tante cose Quindi si, cominciamo Allora Per il primo ho preso questo profumo della stone Della stone Questo profumo stone No, della stone Made in France E' un po' di toilette Ingrediente Fra grass Alcol Della Parfum A Water Benso Fenone Multifel Bedi Piozzo Narco Marino Limone Nel Hidroxy Centrone Vabbè Un po' di niente Si, tante cose A parte gli scherzi è bellissima L'ho pagato poco E non mi dite dove è il capo Perché non lo so Io Non lo so Però sto soltanto che è bellissimo E già Sta questo Staparte però lo andrò a ricomprare Perché Non costa niente Non costa niente Per questo Poi ho preso Vestiti 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 E vestiti One more Allora Questa Maglietta Bellissima Sì, sì No Bellissima Con varie scritte Frecce E La scritta New York Non so se la vedete La vedete La vedete Sta lì Vabbè perché è molto scuro Ragazzi E poi non è che sta luce Però Poi Vi prometto Che andrò a prendere La luce bianca Già La dovevo prendere Con un luce Per vari motivi Però la prenderà Con il resto Poi Questo Pantalone Bellissima Blu Molto semplice Un jeans Il bottone Molto semplice Comunque E' carino Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Poi Sì Questo qua Che è Una felpa Blu Scritta Danger Blu Bellissima Io la Stradoro Perché è molto calda Poi Ecco il completo Che metterò Appunto Domani Vediamo Se Indovinate Vediamo Se i nostri Piccoli Topini Indovinano E la felpa Della Trasher Non è vero Lo so Lo so Ho fatto un brutto inganno No Non è della Trasher Non l'ho presa Perché assomiglia La Trasher Bensì Perché la Trasher Non mi piace Perché è della Trasher Ma Mi piace Perché Mi piace Lo stile Che usa la Trasher Quante volte Ripetite Trasher Non lo so Non sono una persona Ripetitiva Assolutamente Comunque Molto bella Penso Che Molto simile La Trasher Ma Non mi ne frega tanto Perché L'importante Che È simile Alla Trasher Non perché È firmata La Maia Ma Bensì Perché io amo I colori Utilizzati Dalla Trasher E il tessuto Poi Ho preso Questa felpa Bellissima Io l'adoro La stradola Questa Con scritto Speed Strumper Bella Qua molto felpata Felpata Nel senso Là è il tessuto Piacotone Invece L'ha stato Piacotone Questa Altra felpa Che va Sopra Ecco la moglietta Bellissima Molto carina Pagata 15 euro Se non mi sbaglio Perché potrebbe essere Anche Questa L'ultima cosa L'ultima cosa Anzi no Benultima Questo pantalone Elasticizzato Lo scuro Un altro Pantalone Elasticizzato Questo qua Mi piace Chiaro E già L'ho messo Adesso Perché l'altro Pantalone Si era Pucato E ora Il pezzo Forte Eccolo Qua Il nostro Giubbino Mimetico L'ho preso Mimetico Perché ci stava Anche Blu Nero Con la stessa Bianca Ma mi sembrava Più carino Questo Anche perché L'altro Era veramente Brutto E quindi Si Ho preso in tutto 210 euro Ma ho comprato cose Che mi serviranno Sicuramente Spero che questo video Anche se un po' Disaggiatto Vi sia piaciuto Giusto In effetti Vi dovrevo far vedere Anche queste Questi copriletti E non mi dite Perché già ne ho messi Perché L'istrata Ora ho comprato Un sacco di cose Però vi ho fatto vedere Stati vestiti Perché tutte le cose Che ho comprato Sarebbe troppo Da farvi vedere Cioè Veramente sarebbe troppo E il video Durerebbe tipo Un'ora Per questo Non ve le faccio vedere tutte Se volete vedere Le altre cose Chiamate Ditemelo così Ve lo farò appunto Avere il video Aulo Scusate se mio padre Mi parlava Quindi Questo video Si termina Qua Si termina Non so se si può Dere aiuto Termina qua E quindi Ciao ragazzi Nicola Tu c'ho la nuova C'ho la nuova